Sono Sarotto Mauro, imprenditore del Nord-Ovest che costruisce case per fabbricare a basso consumo energetico. Sono stato invitato qui per raccontare la mia esperienza in questo ambito. Quello che cerchiamo di fare come azienda è usare una logica oltre che di produrre edifici a basso consumo è quella di usare tutta una logica di rispetto dal punto di vista ambientale, quindi dalla produzione, quindi dai bassi consumi di usi di energia, la riciclabilità dei materiali, il riuso di parte dei materiali facendoli diventare da quello che può essere una parte di scarto, una seconda vita e quindi usiamo tutta questa logica e quindi ho raccontato un po' questa esperienza e in particolare ho portato come esempio una casa che si chiama BioCasa fatta con la logica dell'emissione zero, costo zero di gestione. BioCasa fatta con la logica dell'emissione. BioCasa fatta con la logica dell'emissione.